Tutte le tecnologie sono necessarie per raggiungere l'obiettivo del net zero al 2050. Anche il gas ha un ruolo importante. Chiaramente dobbiamo essere consapevoli delle ripercussioni che vediamo anche oggi di tipo geopolitico e fare una pianificazione trasparente. In questo senso definire in maniera chiara ma anche realistica il ruolo di questa tecnologia nel percorso di transizione energetica dell'Italia e dell'Europa.